Benetton a risettirci ora... Schumacher è troppo avanti! Quando arriva senti il motore che ti prende dentro. Al mio punto si diceva, ascolto molto il motore, cambiando molto, scalando, è proprio come diventare tutt'uno con essa. Magari ci viene a fare un giro come lui, gli darei un brivido. In più è punto. Pringep, Edirvai in seconda. Azione! Pringep, Edirvai in seconda. My second passion is Pringep. Agip Sint 2000, il lubrificante scelto da Audi, e dalle migliori case automobilistiche, per garantire ai motori potenza, prestazioni e massima protezione. Audi sceglie Sint 2000, per forza, è Agip. Papà Akinen abbraccia il figlio e poi gli altri tecnici della... Archip. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.